Oggi siamo sereni, siamo tranquilli, noi continuiamo ad allenarci come abbiamo fatto anche le scorse settimane e sono sicuro che io e i miei compagni domenica caderemo al 100% contro il Centro Arcanico. Quanto il nuovo modulo adottato da Palladini è stato utile anche ad ottenere quella vittoria? No, è stato importante perché comunque il mister ha preparato la partita in un certo modo, anche loro in udici sono andati in difficoltà con noi, abbiamo trovato le giuste misure e alla fine abbiamo portato questi tre punti a casa importantissimi. Adesso si è guarito completamente, sei stato fuori di squadra per molto tempo, si può contare sotto un stato di salute ottimo? Sì, ora sono tornato a stare bene, purtroppo ho avuto questa malattia che mi ha tenuto fuori per due mesi e mezzo, per ora sono contento di essere rientrato e spero di dare il massimo contributo a tutta la squadra. Ha portato anche bene oltretutto. Sì, o meno male, infatti oltre ad essere contentissimo per il rientro sono soprattutto contento per i tre punti che abbiamo conquistato.